Deontologia Forense, video lezione numero 9, aggiornamento al 15 luglio 2018. Informazioni alla parte assistita. L'avvocato deve informare il cliente della caratteristica e dell'importanza della controversia, precisando le ipotesi di soluzione e il prevedibile costo. L'avvocato, inoltre, ai sensi del novellato articolo 27,3 del codice deontologico, all'atto del conferimento dell'incarico deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. Deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge. Il professionista, chiaramente, deve altresì informare la parte assistita del patrocino a spese dello Stato e degli estremi della polizza assicurativa. Riforma dell'articolo 20 del codice deontologico Con la modifica operata dal Consiglio Nazionale Forense con il comunicato del 13 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 aprile del 2018, ed è entrato in vigore, questo lo aggiungiamo, il 13 giugno 2018, è stato previsto che tutte le violazioni dei doveri e delle regole di condotta indicate in linea generale negli articoli dal 1 al 19 del codice deontologico costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'articolo 51 della legge 247 del 2012. Tali violazioni, se sono riconducibili alle ipotesi tipizzate, comportano l'applicazione delle sanzioni espressamente previste. Se non sono riconducibili, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 52 e 53 della legge professionale da determinarsi sulla base dei criteri previsti dallo stesso codice e specificamente agli articoli 21 e 22. Altro aggiornamento che ho ritenuto interessante inserire è uno in tema di formazione continua. Difatti, fra le cause di esenzione dall'obbligo di formazione continua, il Consiglio Nazionale Forense ha incluso anche l'adempimento ai doveri genitoriali anche a favore del padre. Consultare, appunto, in tal senso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 25 maggio 2018, numero 58. Tale esenzione, però, come ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, deve essere preventivamente richiesta dall'avvocato, così da permettere al Consiglio dell'Ordine Circondariale competente di valutarne la fondatezza e l'incidenza sulle possibilità di formazione dell'avvocato stesso.